Il finale del Festival della Mente è dedicato a un tema molto particolare, che è la serendipità, una parola difficile che nasce da una favola persiana molto bella in cui i tre principi vanno alla ricerca di qualcosa e trovano tutt'altro. Può sembrare strano, ma questa è una delle caratteristiche fondamentali del metodo scientifico. Non è soltanto aneddoto, la penicillina, i raggi X, ma secondo me è qualcosa di profondo, ci racconta qualcosa di molto importante su come funziona il metodo scientifico, lo abbiamo sperimentato quest'anno. Il metodo scientifico significa avere a che fare con l'ignoranza, cioè su ciò che ancora non sappiamo, con la curiosità di indagare, con la capacità di farsi sorprendere appunto dall'inaspettato, la serendipità e poi credo ci dica una cosa molto bella, importante, cioè che noi cerchiamo, noi conosciamo sempre di più, ma la natura là fuori è sempre più grande della nostra immaginazione e questa è la radice per cui continuiamo a trovare quello che noi stiamo cercando.